Non ho mai voluto lavorare in un ufficio. Ho sempre desiderato di poter lavorare un giorno su dei macchinari. Fin da bambino mi piaceva smontare le cose per vedere come funzionavano, per studiarle e talvolta per migliorarle. Oggi il mio lavoro è fare manutenzione, solo che adesso ho gli strumenti migliori. Gli odori, i suoni, la sensazione che tutto funziona senza problemi. Ecco di cosa parlo. Se ho imparato qualcosa lavorando con i macchinari per 15 anni, è che, se tu li tratti bene, loro ti tratteranno bene. E io dovrei saperlo. Perché mi assicuro che la nostra rotativa funzioni senza problemi a 1900 metri al minuto. Era una tua strontz priorità saremmo di cavallo. R compensi migliorare hand funded in un'oralesso. E io vorrei saperlo PVC con i macchinari per 15 anni. Oggi suoni,